camminatori buongiorno finalmente la lazio è giallo e quindi dopo le prime escursioni di riscaldamento oggi torniamo a fare qualcosa di un pochino più serio un pochino più lungo andiamo nel rietino si dice rietino non lo so come dice rietese andiamo a vedere signori le pozze del diavolo chissà cosa ci aspetta prima vediamo da chi è composta la squadra un pochino più lungo siamo arrivati a rocca antica abbiamo parcheggiato è appena arrivati il signore ci ha detto molto gentilmente non se passa che vorrebbe dire la strada è bloccata quindi abbiamo dovuto fare il giro all'interno di rocca antica comunque molto carina quindi una scalinata fatta molto volentieri e ora stiamo sul sentiero abbiamo appena iniziato il sentiero debora vuoi dare il buongiorno ai camminatori che che cappello hai debora fatti vedere di carl hagerfield che chi è carla che ignorante vai chanel bene questo è il sentierino per andare all'eremo di san leonardo questo tratto potrete anche saltarlo se non volete vedere l'eremo di san leonardo e fare una strada un pochino più larga sempre sterrata che vi porta direttamente alle fosse del diavolo ma noi che non ci facciamo mancare niente vogliamo vedere anche l'eremo di san leonardo vero chanel diamo dovete sapere che oggi è il 15 di febbraio e sarà che siamo partiti di lunedì sarà che abbiamo evitato san valentino come la morte ma ragazzi c'è una pace qui e questo sentiero è bellissimo e qui c'è l'eremo di san leonardo di san giovanni il revoltano ci andiamo dopo ma soprattutto lasciamo i sentieri puliti e questa cosa è bellissima anche dai mozziconi ma come si fa a lasciare i mozziconi qui guardate dove siamo guardate cioè come fai a gettare l'immondizia qui no guardate che figo sto eremo lo faccio vedere ed ecco a voi l'eremo di san leonardo eccolo qua dio fa per morire ed ecco l'eremo vero e proprio è praticamente in questa grotta naturale ho scavata non ne ho idea questo qui è l'antico eremo vabbè meraviglioso comunque c'è anche qui la dependance questo credo che sia di una costruzione un pochino più recente con l'affaccio e c'è anche debora e seguendo le indicazioni per revotano arriverete cioè scenderete un pochino più a valle verso questo torrente e ora vediamo dove ci porterà questo sentiero che abbiamo percorso questo tutto questo tratto dal mulino per arrivare a vedere la dolina revotano come c'è scritto qui e vi faccio vedere la dolina revotano eccola qui sti quattro sassi una presso all'altro cosa ne pensi di questa dolina revotano stupendo si potrebbe fare un gran falò si bello il falò in mezzo alla forè al bosco brava debora hai capito tutto tu sì che sei una che fa parte della squadra del cammino del cretino un bel falò guarda la forma è quella ragazzi non l'ascoltate tanto i video li faccio io non vi preoccupate i suoi consigli non li dovete ascoltare solo i miei dovete ascoltare e signore e signori ecco a voi debora che guada un fiume sentivo odore di legna tagliata e ne hanno tagliata parecchia hanno fatto una strage qua praticamente ritornerete sulla strada principale dopo aver visto dopo essere ripassati vicino all'ermo di san leonardo e poi si apre questo sentiero abbastanza tranquillo c'è proprio una strada carrabile passerete vicino a una fattoria poi prenderete questo sentiero abbastanza easy un falso piano e faremo una decina di chilometri andate in ritorno un sentiero il bosco la natura e poi uno spruzzino non si sa mai ti venga voglia di pulire questo muro o quest'albero hanno lasciato qui uno spruzzino appeso opere d'arte ragazzi opere d'arte d'autore come va debora bene come va e siamo arrivati all'eremo di san michele c'è quasi arrivati c'è questa parete molto molto bella ma poi ci sta questo lampione ma mi dovete spiegare a che cosa sta attaccato questo lampione cioè vi volete dire che l'enel è arrivato fino a qua sopra ma poi che senso c'ha i ruderi san michele questa lampione no io veramente non capisco io non capisco qualcuno io sono pugliese non lo so che sono nato in pianura però queste cose non le capisco ah c'è sempre una scalinata per arrivare a un eremo andiamo 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 a vedere ancora no gesù dio ma cos'è io che pensavo che fossimo arrivati all'eremo che bello sei una cagata no 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 è no è però è no non ci fa così però e dai con sti cazzo di catenacci vabbè ecco l'eremo di san michele ve lo faccio vedere da fuori no guarda che carino la grotta di san michele però dentro non ci possiamo andare perché è chiuso io li odio perché devono chiudere tutto ma che dobbiamo fare mi trasferisco qua che devo fare perché chiudete e beh giustamente scusi vuoi fare una pausa in mezzo al trekking ti hanno messo una sedia in mezzo alla foresta e la foresta a questo boschetto che c'è mi sembra giusto grazie ok questa parte di sentiero non è proprio tenuta benissimo nel senso che va bene capisco che si sta sciogliendo il ghiaccio di stanotte e quindi ci sia un po d'acqua almeno le spine le potevamo togliere no guarda qua è proprio sul sentiero i rovi ecco magari se venite qui una scarpina in goretex o impermeabile potrebbe essere utile dico la verità ed ecco le pozze del diavolo ma perché le chiamano le pozze del diavolo tanto carine guarda qua queste sono le pozze del diavolo c'è l'acqua tipo a meno tre no meno tre no sarebbe ghiacciata no è freddissimo ragazzi nevra lo vuoi fare anche tu? ecco siccome Chanel si è tuffata nell'acqua ghiacciata naturalmente poi stava tremando e adesso abbiamo Chanel in versione ispettore gadget con il suo impermeabile vuoi dire qualcosa Chanel a proposito di questo impermeabile? ok volevo informare tutti i fotografi che mi seguono che anche su questo percorso ci sono le balle di fieno e siamo sulla via del ritorno allora un percorso di 15 km veramente molto carino ricco e completo abbiamo due ermi la cascatina e il ruscello le pozze se ci venite d'estate secondo me vi ci potete anche buttare nel ruscello va benissimo e Rocca Antica anche molto carina potete partire dal bar vi prendete un bel caffè c'è il parcheggio quindi ragazzi più di così non so che altro consigliarvi camminatori cretini continuate a seguirci proponeteci i vostri cammini ricordate sempre che se sei talmente libero da sembrare cretino sei pronto a metterti in cammino ciao